Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con i mercati. Questo mercoledì, e lo vedete anche dalla mappa del mercato a fianco, ha visto dominare gli acquisti. Il prezzo del gas e alcuni dati macro tedeschi riguardanti occupazione e fiducia dei consumatori sono stati alcuni dei fattori di questo rialto. Il FUTMIB, per esempio, sempre positivo, ha avuto un trend ascendente per quasi tutta la seduta, con una chiusura rimasta poco distante dai massimi di giornata. Proprio come nel caso del DAX, dove c'è stato un quadro grafico molto simile, il progresso finale supera il punto e mezzo percentuale. Il progresso di questa portata sta andando in scena anche a Wall Street, sia per quanto riguarda il Nasdaq che per il Dow Jones, entrambi appunto oltre il punto e mezzo. Tornando a Milano, in scia al recupero del Brent, scattano in avanti i titoli del comparto oil. Eni, favorito dalla nuova scoperta a gas dell'offshore di Cipro, e Saipem chiudono a ridosso dei tre punti e mezzo di guadagno. Ben comprati i titoli del lusso, capeggiati da Moncler, più 2,77%. Segue Inwit, che recupera tutto il deficit settimanale, sfiorando i 9 punti e mezzo. Lo stesso risultato, più 2,60%, circa, viene registrato anche da Diasori. Tra i titoli a minore capitalizzazione, citiamo il crollo del meno 9,5% di avio, causato dal fallimento la scorsa notte della missione Vega C in fase di decollo. Il razzo avrebbe dovuto portare in orbita due satelliti. Nel settore automobilistico, Tesla cede oltre 3 punti percentuali. Sul Forex troviamo un euro-dollaro, che al momento sta perdendo leggermente terreno rispetto a ieri notte, ma quanto basta per rimanere sopra quota 1,06. Forte rialzo per il cross euro-sterlina, nonostante la flessione del primo pomeriggio. Dopo il crollo di ieri notte, causato dalle mosse della Banca of Japan, Euro-Yen resiste e ritorna in area 140. Prima di chiudere, spazio alla panoramica di Pietro Di Lorenzo. Salve a tutti per le interviste di Traderlink, ospite di oggi Pietro Di Lorenzo, trader indipendente, ideatore di SOS Trader e degli eventi Investing. Allora Pietro, siamo in dirittura d'arrivo. La fine dell'anno è vicina, momento di bilanci. A te la parola. Sì, è vero, è partito il countdown, siamo ormai a meno 7, inclusa la seduta di oggi. Fra l'altro le sedute, fra Natale e Capodanno, sono sempre delle sedute piuttosto interlocutorie, tradizionalmente prive di volume e di volatilità. Quindi siamo già un po' al tirare le somme, le somme di un anno complicato. Ti mostro il grafico, magari il giornaliero, per capire quanta volatilità e quanti cambi di scenario abbiamo assistito nel corso dell'anno. Una prima fase molto delicata, poi un consolidamento, un'altra discesa e poi quest'ultimo trimestre che ha un po' limitato i disagi e i ribassi, in particolare da metà ottobre a metà novembre, si è costruito un bel movimento di quasi 450 punti e adesso siamo un po' in una fase laterale. Le banche centrali settimana scorsa hanno un po' sabotato quella che poteva essere un'idea di rally di fine anno. Ieri abbiamo interrotto una serie di cinque sedute negative consecutive e oggi si sta tentando di confermare il rimbalzo. Che cosa mi aspetto? Sostanzialmente non credo che gli operatori abbiano voglia di prendersi i rischi proprio nell'ultima curva e quindi un sostanziale consolidamento da qui a fine anno. Poi la proiezione è già sul 23, mi aspetto un anno altrettanto difficile, un anno in cui secondo me nella prima parte si faranno un po' i conti con alcuni temi che sono rimasti un po' sul tavolo ancora da risolvere e poi anche condizionato da tanti fattori esogeni difficili da prevedere. Immagino ad esempio la guerra in Ucraina, nonché le tensioni fra Cina e Taiwan e infine anche i sviluppi del Covid che è sempre lì latente. Oggi si leggono notizie alla Cina piuttosto preoccupanti e quindi sarà un altro anno sfidante che secondo me va affrontato con una logica molto attiva, sfruttando quindi le opportunità dei buy day piuttosto che un posizionamento buy and hold che è piuttosto, come dire, difficile da immaginare su mercati così volatili e scarsamente direzionali. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per tutte le indicazioni, con te rimando all'appuntamento alla prossima volta. Grazie mille, auguri di buon Natale e buon anno. Grazie Rossana e grazie Pietro per questo contributo che chiude l'edizione di oggi. Vi rinnovo l'appuntamento domani e vi auguro una buona serata. Arrivederci.